Alta pressione sul Mediterraneo centrale, con conseguenti condizioni in prevalenza soleggiate. Tuttavia, infiltrazioni di aria più fresca in quota determinano un aumento dell'instabilità. In Toscana, mercoledì 8 agosto, cielo inizialmente poco nuvoloso, con locali addensamenti, tendenza ad aumento delle numine all'interno, con possibilità di locali brevi rovesci temporaleschi, più probabili sulle zone meridionali e orientali della regione. Venti deboli di brezza, con componente meridionale, mari poco mossi, temperature stazionarie o in locale e lieve calo. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio provinciale, a Lucca e nella Piana, temperatura minima 19, massima 34 gradi, a Castelnuovo e zone montane, minima 16, massima 33, a Viareggia e sul litorale, minima 23, massima 28 gradi.